Ciao a tutti, sono qui dietro come vedete perché non so come fare adesso a girare la telecamera, vabbè. Oggi vi mostro i disegni, quelli che ho fatto ieri e l'altro ieri e oggi. Oggi ho fatto questo, che sarà il Pokémon Pikachu, che lo trovate sempre qui in questo qua. Che è questo qua. Io l'ho fatto. Poi, poi ho fatto lo scheletro e il cuore che sto sempre lì, che non ho voglia di cercarli, vabbè. Poi il cane, che me l'ha mandato una mia amica. E il punto di domanda perché mi sento un po' confuso alcune volte. La stella colorata perché mi sento un po' allegro con tutti i miei amici. Quindi, buona visione! Grazie.